... Gianni Coragione per Libri.tv stiamo qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani in compagnia di Ginese e di Ulizio e segretario di Radicali Ecologisti allora, ovviamente cominciamo io vengo a conoscenza adesso di questa nuova entità adesso ci spiegherà Ginese se è un'associazione quando è nata, chi è coinvolto, gli scopi, eccetera e poi parliamo un attimino di questo cartello che hai al collo sì, allora innanzitutto procediamo per gradi buonasera a tutti allora noi siamo Radicali Ecologisti e Democrazia Europa Impresa siamo un'associazione tra l'altro nata da pochissimo da poche settimane abbiamo racchiuso nel nostro progetto che è molto ampio varie persone e abbiamo tutti lo stesso scopo cioè innanzitutto siamo ecologisti ma innanzitutto siamo anche radicali principalmente e quindi ecco, proprio per collegare il discorso del nostro cartello a quello che stiamo facendo oggi e al nostro progetto generale ti dico che noi siamo intervenuti ora al comitato straordinario perché ovviamente abbiamo i nostri rappresentanti di comitato Luca Patavino, Maurizio e li salutiamo anche e siamo intervenuti perché ovviamente abbiamo interesse anche noi a quanto si sta verificando i radicali italiani e anche in tutta la galassia noi abbiamo attenzione a tutto ciò che succede in Casa Radicale perché pensiamo che i radicali siano unici nel senso siamo tutti insieme e il nostro cartello oggi noi interverremo stiamo per scendere e invitiamo tutti gli altri che vogliono partecipare a scendere con noi ad appoggiare questa manifestazione per quanto riguarda l'innegibilità di Silvio Berlusconi ora senza entrare nel merito della questione diciamo che per noi c'è l'esigenza di prendere una posizione anche su questi temi perché siamo stanchi siamo stanchi noi e sono stanchi molti compagni che leggiamo tramite Twitter tramite Facebook di queste indecisioni continue di questi taxi di questi passaggi è necessario innanzitutto arrivare ad un congresso guarda se mi chiedi per quanto riguarda un commento sulla situazione dei radicali italiani è necessario per noi arrivare ad un congresso straordinario quindi congresso straordinario perché nel congresso straordinario bisogna affrontare le questioni che stiamo trattando anche noi ora forse stiamo anticipando i tempi però preferiamo farlo e noi ovviamente scegliamo di essere radicali di sinistra scegliamo di essere coerenti con una legalità scegliamo di fare una politica che sia tra la gente tra le persone e ovviamente siamo scontenti del risultato elettorale anche delle listagie e vogliamo chiediamo di nuovo di presentarci alle elezioni con una lista che sia radicali italiani radicali tutti insieme un bacio a compagni ok se hai fretta di lasciare subito sì perché guarda stiamo per scappare diciamo almeno qualche riferimento su come possiamo raggiungere questa nuova situazione allora innanzitutto noi abbiamo un sito internet predisposto che è www.radicalecologisti.it al momento sai è ancora in fase di manutenzione però il sito internet però siamo già presenti sulle piattaforme di facebook e anche twitter anche se è uno strumento twitter non lo preferiamo preferiamo facebook per quanto riguarda le condivisioni stiamo già partendo subito con dei progetti al più presto faremo una festa del tesseramento e sarete tutti informati inviteremo tutti con grande piacere e quindi ci aggiorneremo a presto per il momento stiamo cercando di dare diciamo il nostro input la nostra partecipazione cercando di coinvolgere il maggior numero di persone il maggior numero di compagni e compagni scontenti di quanto sta avvenendo e siamo convinti e lo diciamo senza presunzione che però ci sia bisogno di un cambiamento al più presto e quindi congresso straordinario e poi successivamente partiremo con le nostre iniziative radicari ecologisti su Libri.tv grazie buona manifestazione grazie grazie ciao ciao